Ciao ragazzi, ecco voi direttamente da Kuala Lumpur, le Twin Towers, come si possono vedere sul fondo. Siamo qua al circolo con i tre campi secondari e il centralore dietro di voi. Naturalmente la temperatura è classica di Kuala Lumpur, ci saranno percepiti 45 gradi, umidità dell'80%. È stata una settimana bellissima per me, la prima volta qua a Kuala Lumpur. Sono partita le qualificazioni ed è stata una gran vittoria sopra le qualificazioni, ma ho continuato a giocare. Il primo turno ho battuto la Jobor, giocando un gran match. Invece ieri mi sono fermata al secondo turno, ma sono veramente contenta, è stata veramente una bella settimana. Volevo ringraziare il mio coach Dario Bellino che è venuto qua con me e mi ha aiutato molto durante la partita. E cos'altro? Se volete venire qua a Kuala Lumpur a vedere il torneo, attrezzatevi con crema e tutte queste cose qua. È un bel ombrello, perché come vedete non si può stare dal caldo. E niente, cos'altro? Dopo questa bellissima settimana mi preparerò per la terra di Parigi, continuerò gli allenamenti e spero di continuare a bere e di fare bene anche a Parigi. Un grandissimo saluto ai ragazzi di utennis.net. Ciao!